Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Quaresima di Carità, una grande catena di solidarietà volta a raccogliere fondi per sostenere persone in difficoltà o che vivono situazioni di disagio. Si tratta di un'utile occasione, spiega la Caritas della Diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro, perché la comunità diocesana si senta unita nell'essere corresponsabile della vita di altri fratelli e sorelle che non conosciamo ma che non di meno sono affidate alle nostre cure e attenzioni. In questa Quaresima, Monsignor Riccardo Fontana, per domenica 11 marzo, ci invita a trasformare in offerte e in denaro i nostri sacrifici, le nostre rinunce, a beneficio dei più deboli e sofferenti, seguendo la proposta di Papa Francesco, di Caritas Italiana e della Conferenza Episcopale. Le offerte raccolte con la colletta dell'11 marzo permetteranno di potenziare la cura e l'aiuto delle persone in difficoltà che il Centro di Ascolto Diocesano e i centri di Ascolto Territoriali incontrano e accolgono nel loro servizio.